Scopa Mop cattura polvere adatta ad ogni superficie, piastrelle, parquet, marmi e graniti. E' dotata di microfibra per raccogliere la polvere e sporco senza sollevarlo, anche da sotto i letti o i divani. Come puoi vedere qui c'è un tasto. Se lo andiamo a schiacciare andiamo ad aprire facilmente la base della scopa in modo da andare a togliere la microfibra e andarla a pulire. Qui puoi anche incastrare i panni tipo Swiffer. Un accorgimento che ti suggerisco, quando vai a rimontare il pezzo sulla microfibra stai attento che il tasto si sia alzato e che la base si sia incastrata bene. Come puoi vedere senza questo sistema sarebbe difficoltoso inserire il pezzo all'interno della microfibra, cosa che invece io sto facendo con una sola mano. Con veramente un'estrema facilità. Il panno è ampio e misura circa 13 cm di larghezza per 43 cm di lunghezza. Come puoi vedere è anche molto mobile e fornisce un ampio raggio d'azione, per questo potrai arrivare in tutti i luoghi dove hai bisogno di arrivare. Come ultima cosa ti vado a mostrare il manico. Il manico è telescopico e ora ti faccio vedere anche le misure. Da aperto misura circa 125 cm e da chiuso circa 73 cm. Seguimi per altre idee e soluzioni per la casa.